buon pomeriggio benvenute e benvenuti a quest'ultima quest'ultimo film del del focus tff doc desiderio e sono praticamente contento di chiudere questo viaggio nel desiderio con un film che 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 viaggia nella storia d'europa e della Germania e della Germania Est e di farlo con Tomas Heise che presenta Heimattestown a Oim de Auszeit. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Ich will jetzt gar nicht viel sagen, nur, dass ich halt da bin und wir uns gerne unterhalten können im Anschluss wenn Sie denn wollen. Buon pomeriggio grazie di essere intervenuti e vi aspetto dopo la proiezione e possiamo parlarci dopo se lo desiderate. e dopo ne parleremo anche con Enrico Ganni, editore traduttore che ci accompagna alla fine della proiezione. buona visione. Applausi Grazie 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 Grazie